Priaco, leggo la classifica da cani, ma vorrei farlo pagato come la Pagani Mammaa! Comunque zio, guarda che non sono stata pagata per fare quella puntata lì Avevo 18 anni, la mia prima diretta c'è un errore, abbonate, avevo 18 anni Mamma mia, che pesanti che siete con questa storia, basta però, eh Sì, ma sì Ludovica, non te la prendere Di serei i rapper italiani Babbi Non è un dissing, su, non si scherza, no? Prendila a sorridere Vedila così, anziché scriverti in privato qualche porcata